Ragazzi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio dell'Enigmatica 2 ragazzi Come vi trovate signori? E beh, io mi trovo bene perchè ho trovato il componente mancante per fare la Dirt Furnace Questo qui, vi ricordate che serviva la Gunpowder? E l'abbiamo trovata ragazzi, di conseguenza abbiamo anche la Quest Quindi questo e le Planks Planks e questo, facciamo ok Questo e la Dirt, facciamo Dirt Furnace Bam! Ragazzi, adesso le cose si fanno più interessanti Perchè con questi Abbiamo l'acqua infinita Ma abbiamo... no, questo mi tengo Ok Il Plant Matter Questo non mi sembra un Plant Matter Enderman Ok Ok Piano a Piano Ok Allora, ci facciamo i crocchi Ok, ci siete? Facciamo i crocchi Facciamoci i crocchi Così scrocchiamo le foglie Ok Ok Allora, ho quasi finito anche le... Il Ciaibo Mi è coppettato anche la Quest Si rompono subitissimo, raga Beh, di certo Potremmo usare Ok Io spaccherai Ah, perchè non mangiare Il Carcall Vediamo Torche Ecco da qua Si può usare il Carcall Yes Quindi Mamma Facciamo il Carcall E lenti Minchia se consuma Vaca zio Consuma un parecchio Però Che dirvi A meno ci abbiamo un po' di torce Per cui stare Assicuro Perchè qui non siamo ancora sicuri Ok Quindi Le torce Facciamo gli sticchi Ok Sticchio E questo Facciamo Le torce Oh No Illuminiamo L'isola Anche da questo lato Ci saranno sicuramente Delle assi gialle Di qui No Perfetto Qui siamo Assicuro Ufficialmente Allora Questi qui Li metto qui E così poi Facciamole Nice Perfetto Ora Cremiamo La quest Ok Ci serve il combustion Ci serve il combustion Eater Dobbiamo fare la lava Vabbè Lock button È semplicissimo Ok Lock button È fatto Poi La trapdoor Azzo Che spavento Ok Questo Lo facciamo Fatto Un altro Poi Combustion Eater Eccolo qui Ci servono Che mag Una gun power Allora mi farei Mi aprirei questo Madonna Che culo N Wow Ci abbiamo Nutrizione Che fantastico Non lo sapevo Che spavento Ok Quindi Ok Tre fantastici Ma non c'abbiamo Scheletro Ok Io torno troppo Raga Appena c'ho Le stronzi Perché adesso Devo fare Raga Devo fare La Bisogna fare un altro Di quelli Perché facciamo Il combustion Eater Cioè Ovviamente Ci manca La gunpowder Problema Principale È La gunpowder Non c'è nessuno Non puoi mettermi Di zombie Vabbè Torno tra poco Ecco ragazzi Il creeper Mi spacco il martello In testa Se è uno stronzo Sei uno stronzo Torno tra poco Ragazzi Nel frattempo Che Si fa ancora Notte Posso metterci Un po' Di vermacci Almeno Bustiamolo Ok Questi Li mangeremo Ok Alberi I bacchi Da seta Insomma Questi Li cuoco Questi Che già Si fanno Era questo Quel che volevo Intanto Abbiamo ottenuto Dell'inferium Se ci pensate A parte Quei 14 Che voglio Mantenere Uno Perlomeno Ok Questi nove Me li voglio fare 36 Vrebbero bastare Comunque Voglio Dare Un boost A tutto questo Oh Che bello Quando Ti crescono Gli alberi Ok E Vabbè Intanto Oddio Quanti creeper Quanti creeper Allora Facciamoci Altri Sticchetti Ehm Quindi Ok Facciamoci Altre due Ammar Amma Ammar Non so Che si dice Ammar Ammer Quello Quale E di Empoli Aio Non c'è Il range D'attacco Fischia Due creeper Perfetto Quello che voglio Ehm Ehm Gunpowder Vaffanzulo Va bene L'ho Ottenuta Yes Ne abbiamo Quattro Ottimo Ora Raga Aia Ok Facciamoci Questo Legno Intorno Ok 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 Ci siamo E con questo Ci facciamo Altre ciocchette Di Facciamo Altre crocchi Non so Se c'è Una ex Compressum Adesso Controlliamo Immediata Mont Ok Sì Sì Porco Eh Questo Non l'hai Calcolato Eh Ok Questo Non l'avete Calcolato Sviluppatori Vabbè Ex Compressum Yes Nice Boy Nice Boy Raga Boy Oh Madonna Ops Devo mangiare Ah però Problema Adesso Il cibo Che non è più Un problema Oh Un cosciotto Una volta Nice Boy Perfetto Spacchiamo Grazie Questi Chippings Non so Se questi Chippings Si può Fare Yes Boy Si può Fare Madonna Sì Adesso Adesso Esplodiamo Di Chippings Raga Allora Innanzitutto Un lettuccio Che ci serve Ok Questo E La legna Che non abbiamo Poi Ci serve Non possiamo fare Sifter Questo Poco Ma sicuro Però Possiamo fare Possiamo fare Una zona Scomparto Barrel Eccola Ok Allora Questi Quo Quo Allora Posso fare Una scomparto Barrel Non ci ho pensato Ok Questo Lo mettiamo Via Ci facciamo Della legna In questo Modico Ok Ci siamo Grazie Boy Grazie Mettiamo Qui Shift Ah ok Quindi Adesso Possiamo Andare A farci Il Frame Ce l'abbiamo Ok Ci abbiamo Questo E I Legnetti Possiamo fare Il Combustion Ragazzi Adesso Allora Combustion Is your first method Of creating Materials It's a Multi-block Structure And you Can Find The Setup In the Sky Resources Guide The Top Block Can Be A Wooden Trap Door Ok To Easily Access The Blast Chamber Ok Adesso Vedremo Multi Blocco E Non Premo Ceno Cestica Tanium Coin Ok Vabbè Questi pezzi Grazie Spaccherei Non me ne è andato Dai Tu ti volresti spaccare Adesso No Tipo Ora Ok Infatti Ok Vabbè Comunque Mettiamoci dentro Le robe Dobbiamo farci La piattaforma Quindi Abbiamo finito Il call Beh In fondo È una fornace Non è che Allora Ok Quindi Dobbiamo fare A chemical Fusion Table Prima Chemical Dust E Crystal Shard This Machine Plays A big Part Of Your First Ingo Quindi Crystal Shard Ah Prima Devo fare Prima 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 Che si fa Con il Combustion Ok Ok Però ci serve Fuoco di Blaze Fuoco di Blaze Dal Dallo Squeezer Di Blaze Oh porca Bacca Allora no Non ci siamo Bisogna fare Multi Blocco Quindi Vediamo invece La guida Combustion Eaters Ok Make sure The structure Ok Quindi Are used In the casings I casings Ok Eat providers Ci serve Eat providers Vediamo Eat Pro Va Ok Ci serve Due di questi Semplici Semplici Se non ho la legna Scialla 15 e 16 Ok Ne facciamo due al massimo Poi serviranno Poi La gunpowder Ok Poi Le ciocche di legno Yes Porca puttana Ma nessun problema Con i plant matters Nessun problema Fatta Ora Fatta Telefono Del cazzo Questi due Oh Eat Poi ci serve Il casing Dovamo avercene uno Quindi casing Wooden casing Ci serve La gear E Le ciocche di legno Le ciocche Come si fa Scusate Le wooden gear Recipe Ah ok Ho capito Ho capisciuto E in teoria si fanno così Se non erro sbaglio Infatti Infatti Questo Più Altra legna Vabbè Ho fatto buon mille Vabbè Vabbè Tutta legna Ba Ushi Possiamo colorare il letto Domanda No 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 Non me lo fa fare Vabbè Via Allora Allora Ci serve Le legna Wooden casing Allora Ci vuole Wooden casing Ok Ce l'avevo Già Vabbè Combustion Ok La traptor Ok Poi Mi sa che me la devo cercare Perché non conosco Le mod D Drop items Inside the structure Above the heater Make sure the ratio Of items Are in the same as the recipe You can put the stocks on Of any time As long as the Etchure lasts During the crafting Push the button On the heater To give the heater A rest on signal If something explodes Inside the structure It worked Now pick the items To set a combustion Into multiple Try the design As the Showed here Ok No Allora Mi devo concentrare Fiamo tutto quanto Adesso G Guide Ok Casing Allora Casing Bottone Ok Poi Ok Le shock Di menno Va bene Ok Quindi Quest Ah ok Ho capito Attractor Attractor Ok No Non è ancora formato Ah ok Serve il legno Forse Quindi Wood E Dai Ok No, non ci siamo Raga, io torno tra poco con Con la struttura Ragazzi, volevo mostrarvi la Multiblocco Allora, l'ho scoperto come si fa E' semplicissimo Quindi questo, questo 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 Una slab A questa altezza Ok Ok E la trapdoor Ok, adesso Allora, la trapdoor Smacciocchiamo No, ho sbagliato, raga Scusate Fatemi rifare Adesso sono su Quindi questo lo brucio Nel senso Datecimi il tutto Quindi Allora, abbiamo questo Poi facciamo Un cosetto qui Multiblocco Adesso è semplice Quindi Di qui Una slab E una trapdoor Ok Ok No Dammi la Dammi la trapdoor E anche questo Allora Così Non è funzionato Così C'è la B GG Abbiamo fatto Combustion Heater Ragazzi Adesso Io vi saluto E ci vedremo Nel prossimo episodio E caso Ma è tutto Facciamo un abbraccio E ciao a tutti Ciao a tutti